Siamo lieti di rappresentare la nostra azienda giovane e familiare, che nasce a Porto Viro il 2016 nel cuore del Delta del Po, in provincia di Rovigo. Autotrasporti Delta Express è una ditta specializzata nel trasporto nazionale e internazionale. Su Commissione offriamo traslochi last minute con smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi. Grazie al vasto parco mezzi a disposizione, consente le numerose soluzioni economiche per garantire un servizio, professionale e molto rapido. Tutti i nostri servizi disponibili su www.servizideltaexpress.com Per tutte le informazioni chiamare al 339 47 46 951. Un operatore sarà subito disponibile. Vi ricordiamo che siamo aperti anche il sabato e la domenica per soddisfare ogni vostra esigenza. Non esitate a contattarci.